Michail Orfanides fa l'architetto da una vita. Ha sempre guadagnato piuttosto bene. Nelle banche di Cipro ha depositato più di 200.000 euro e ora teme che con l'accordo raggiunto per ottenere il prestito internazionale possa perdere un'ampia fetta dei suoi risparmi. Uno non risparmia fino alla fine e poi all'improvviso ti portano via tutto. Questo è un furto vero e proprio alla luce del giorno, nella sua peggiore forma. Nessuno sa se si parla di un taglio del 40%, del 60%, del 65%. La percentuale di cui parlano è variabile. Si deciderà, penso, nei prossimi giorni. Non so davvero cosa fare. Tutti questi eventi sono al di là del mio controllo. Dobbiamo pagare per le banche, per i politici, con i soldi guadagnati con il nostro sudore. E i politici qui sono qui.